Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Firenze Nord e Barberino. Sulla FIPRI per lavori restringimento di carreggiata tra km 51 e 100 e km 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione Mare. Sulla A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Colle Salvetti in entrambe le direzioni fino alle 18 di domani. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze per uno scavo urgente chiusa via Pierluigi da Palestrina con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!